non voglio mica la luna voglio solo postare da solo con te buongiorno amici dello zoccolo duro buongiorno buongiorno mi sono inventato le parole o sono quelle giuste vediamo chi indovina scrivetelo qua sotto detto questo ragazzi sta andando alla grande il mio tiktok dei ristoranti milano che vi lascio in descrizione però io non capisco se qualcuno che me lo spiega io non lo so usare tiktok ho fatto il video al giappoghese che ho mangiato la 40.000 view primo video così 40.000 view così poi ho fatto il video al mexicali ieri che ho mangiato messicano 70 visualizzazioni cioè da 40.000 a 70 spiegatemi come funziona tiktok perché non lo so come funziona spiegatemelo boh imparerò imparerò anzi se c'è qualcuno annuncio annuncio se c'è qualcuno che vuole scrivere i post nella mia pagina facebook perché io ci metto i video però per i post le notizie sul mila sul calcio fatemi sapere perché sto cercando a gratis qualche ragazzetto che c'ha voglia sono quelli che mi scrivono mille robe su instagram tipo alessandro rizzo tipo andrea mosca eccetera se c'è qualcuno che vuole scrivere i post su facebook scrivimi su instagram che ne parliamo detto questo parliamo di un po' di argomenti allora partiamo dall'argomento giocores giocores si chiama così giocores vabbè come si chiama lui lo svedese allora volevo chiarire due robe perché poi la gente non ascolta la gente non ascolta e poi torna dopo magari un anno ah tu avevi detto no ascolta quello che io dico non sparare a caso a scopo perché le parole sono importanti quindi è che le parole sono fatte a caso ok io non ho mai detto che giocores giocores è scarso anche perché non avendolo praticamente mai visto l'ho visto due volte cioè chi lo conosce io dico e affermo che il Milan parte ogni volta fa così ogni volta fa così parte da un giocatore in questo caso Zierze si parla due mesi di Zierze tutti belli contenti poi non è Zierze escesco per poi arrivare a un nome sconosciuto no ma questo è conosciuto oh fino all'anno scorso non conosceva nessuno se vieni qua l'anno scorso non conosceva nessuno quindi è un nome nuovo facciamo un nuovo invece che sconosciuto un nome nuovo ok facciamo così poi quando tu vai a prendere questi nomi nuovi chiamiamoli nuovi queste scommesse si può dire scommesse dato che fuori dal Portogallo non l'ha mai giocato quando tu vai a prendere queste scommesse cosa succede soprattutto a parte che non prenderemo perché già c'è prezzi alti quando tu prendi queste scommesse che non hanno mai giocato il campione italiano cosa succede che ti può capitare il Tijani Renders così come ti può capitare il Tijani Renders è una scommessa è una scommessa che vinci sempre se no sei uno scommettitore quindi non mi pronuncio sulla qualità del giocatore come su Renders no? non lo conoscevo ero contento quando l'abbiamo preso no? perché non lo conoscevo la prima volta che l'ho visto andatevi a vedere i miei video la prima volta che io l'ho visto vi ho detto ragazzi questo è forte questo è forte mentre invece Musa la prima volta che l'ho visto cosa vi ho detto? anzi prima ancora di comprarlo cosa vi ho detto? questo è proprio scarso quello non l'ho detto è una scommessa quello è scarso e lo ribadisco perché è ignorante calcisticamente proprio ignorante e questo si vedeva subito lo vedevi anche a occhio nudo questo gioco se vi dico la verità non l'ho mai visto bene cioè non l'ho mai visto ho visto qualche light ma lo devo vedere quindi mi lascio la valutazione ma tanto non lo prenderemo quindi io spero in GZ perché l'ho visto perché conosce il capo italiano perché è un bel giocatore non sarà un giocatore che fa 20-30 gol ad oggi però lo vedi che è un bel giocatore può fare bene poi per come giochiamo noi per ora per ora adesso parliamo anche di Pioli per come giochiamo noi per ora non avremo mai un attaccante da 30 gol perché? perché abbiamo Pulis che fa gol abbiamo Leao che fa gol abbiamo tanta gente che fa gol quindi non arriveremo mai ad oggi avere un attaccante che fa 30 gol e già facciamo tanti gol noi siamo il secondo migliore attacco dopo i furfanti quindi capisci bene che già fai tanti gol e giro una fatta i 10-12 se anche l'attaccante fa 30 gol o non li fanno gli altri o c'è qualcosa che non quadra quindi per come giochiamo noi secondo me per come gioca Pioli Zierze è perfetto e sarebbe perfetto anche per quello che io spero sapete Antonio Conte discorso Antonio Conte a parte che stamattina mi sono svegliato meraviglioso questa me la devo mettere qua in mezzo stamattina mi sono svegliato l'Inter prende Gudmundson chi? chi ha preso? cioè stamattina si è svegliato ha detto si vada all'Inter chi l'ha preso? quale proprietà? dov'è il proprietario? ha dato l'ok? chi ha dato l'ok? come ha dato l'ok? con l'avatar? con che soldi poi? che è sotto gli arresti domiciliari chi l'ha comprato? come l'hanno comprato? cioè con Marotta dato che ha pure detto che va via nel 2027 così la Gaza ogni tanto spara ste bombe c'è l'antimafia c'è quello agli arresti domiciliari spara la bomba preso Gudmundson così a caso un giorno così una domenica mattina si sono svegliati e hanno preso Gudmundson vabbè la gazzetta meravigliosa ragazzi ogni giorno l'attaccherò a parte che già l'attaccavo prima adesso che mi appoggiano ancora di più chiusa questa parentesi fantasiosa poi magari lo prendo non è tanto ormai Conte ah sapete che io voglio Conte a tutti i costi perché è quello che ci serve però io non ho mai detto a differenza di altri che Pioli non mi è piaciuto io lo ringrazio per quello che ha fatto secondo me non è un cattivo allenatore il suo problema grande è non saper cambiare lo staff di preparatori e poi adesso si è messo in testa questo 5.05 che dopo lo scudetto ha perso proprio la ha perso proprio la cavesa però è secondo in classifica e adesso vediamo cosa combina l'Europa League quindi il mio cambiare Pioli sì per forza ma non per ma non per uno a caso cioè questo è importante cioè non cambio Pioli a caso cambio Pioli perché deve arrivare Antonio Conte questo sia ben chiaro se no se devo prendere meno male Motta verso la Juve Fariore quella gente lì cioè cambio solo lo staff iscrivetevi al canale passate una buona domenica delle palme e ringrazio sempre i ragazzi che mi iscrivono su Paypal dove facciamo delle bellissime conversazioni chi vuole trovate sempre la mail in descrizione e fate i bravi ciao belli